Mondadori presenta Eroi dell'Olimpo, La casa di Ade, di Rick Riordan. Legge, Moreno Di Sepp. Eroi dell'Olimpo, La casa di Ade. Ai miei meravigliosi lettori, mi dispiace per l'ultimo finale in sospeso. Beh, no, in realtà non mi dispiace. Però, sul serio, vi voglio bene, ragazzi. Hazel. Durante il terzo attacco, Hazel per poco non inghiottì un masso. Stava scrutando nella nebbia, chiedendosi perché dovesse essere così difficile attraversare una stupida catena montuosa, quando gli allarmi della nave scattarono. Tutto a babordo, urlò Nico dall'albero di trinchetto dell'imbarcazione volante. Leo strattonò il timone e l'argodue virò a sinistra. Iremia e Rei sferzavano le nuvole come file di coltelli. Hazel commise l'errore di guardare oltre il parapetto. Una sagoma scura e sferica le si precipitò incontro. Pensò, perché la luna ci sta venendo addosso? Poi strillò e si gettò sul ponte. Una roccia enorme passò così vicina alla sua testa da scostarle i capelli dal viso. Crac! L'albero di trinchetto crollò. La vela, il pennone e Nico si schiantarono sul ponte. Il masso, più o meno delle dimensioni di una jeep, si allontanò turbinando nella nebbia, come se avesse cose più importanti da fare altrove. «Nico!» Hazel corse dal fratello mentre Leo raddrizzava la nave. «Sto bene!» brontolò il figlio di Ade, scalciando per liberarsi le gambe dalle pieghe della vela. Lei lo aiutò a rialzarsi e insieme barcollarono fino a prua. Stavolta Hazel sbirciò giù con più prudenza. Le nuvole si divisero il tempo sufficiente per svelare la cima. Una roccia nera e aguzza come la punta di un giavellotto che dalle pendici verde muschio si slanciava verso l'alto. In piedi sulla vetta c'era un dio della montagna, uno dei Numina Montanum, come li aveva chiamati Jason. In greco, Urea. Creature odiose, comunque le si chiamasse. Come gli altri Numina che avevano già affrontato, questo indossava una semplice tunica bianca sulla pelle ruvida e scura come basalto. Era alto sei metri e molto muscoloso, con una fluente barba bianca, i capelli incolti e uno sguardo folle negli occhi, da eremita pazzo. Ululò qualcosa che Hazel non capì, ma che di certo non era un benvenuto. A mani nude staccò un altro moncone di roccia dalla montagna e iniziò a plasmarlo in una sfera. La scena scomparve nella nebbia, ma quando il dio della montagna ululò di nuovo, altri Numina risposero in lontananza, con voci che riecheggiavano nella vallata. «Stupide divinità rocciose!» urlò Leo dal timone. «È la terza volta che devo rimpiazzare quell'albero! Pensate che crescano nelle foreste?» Nico aggrottò la fronte. «Beh, gli alberi sono di legno, perciò...» «Non è questo il punto!» Leo afferrò uno dei comandi, quello ricavato dal joystick di una Nintendo Wii, e lo ruotò a cerchio. A pochi metri di distanza, una bottola si spalancò sul ponte, lasciando uscire un cannone di bronzo celeste. Hazel ebbe appena il tempo di coprirsi le orecchie, prima che la carica partisse, spargendo una decina di sfere di metallo seguite da scie di fuoco verde. A mezz'aria, le sfere liberarono lame simili a pale di elicottero e si allontanarono, roteando nella nebbia. Poco dopo, una serie di esplosioni rimbombò fra le montagne, seguita dal ruggito indignato dei Numina Montanum. «Ah!» gridò Leo. Purtroppo, intuì Hazel ripensando ai due ultimi scontri, la nuovissima arma di Leo era riuscita solo a farli arrabbiare. Un altro masso fischiò nell'aria, a poca distanza dal fianco destro della nave. «Portaci fuori di qui!» urlò Nico. Leo borbottò qualche commento poco lusinghiero nei confronti dei Numina, ma si rimise al timone. I motori ronzarono, il sartiame magico si tese e la nave virò a sinistra. Largo 2 prese velocità e si ritirò verso nord-ovest, come aveva fatto nel corso degli ultimi due giorni. Hazel non si rilassò finché non furono lontani dalle montagne. La nebbia si disperse. Sotto di loro, la luce del mattino illuminava le campagne italiane. Dolci colline verdi e campi dorati, non molto diversi da quelli della California settentrionale. Per un attimo, le sembrò quasi di tornare al Campo Giove. Quel pensiero le gravò sul petto. Il Campo Giove era stato la sua casa solo per nove mesi, da quando Nico l'aveva riportata indietro dagli inferi. Ma ne sentiva la mancanza più di New Orleans, la città dove era nata, e decisamente più dell'Alaska, dove era morta nel lontano 1942. Le mancava la branda nella caserma della quinta coorte. Le mancavano i pasti immense, con gli spiriti del vento che facevano volare i piatti e i legionari che scherzavano sui giochi di guerra. Avrebbe tanto voluto passeggiare per le vie di Nuova Roma, mano nella mano con Frank, e sentirsi per una volta solo una ragazza come tante, con un ragazzo vero, dolce e premuroso. Soprattutto avrebbe tanto voluto sentirsi al sicuro. Era stanca di avere paura e di essere preoccupata tutto il tempo. Rimase sul cassero di poppa, mentre Nico si toglieva le schegge dell'albero dalle braccia e Leo pigiava i pulsanti della console di comando. «Beh, è stato uno schifo totale», commentò Leo. «Che dici? Devo svegliare gli altri?» Eisel fu tentata di rispondere di sì, ma i restanti membri dell'equipaggio avevano fatto il turno di notte e si erano più che meritati le riposo. Difendere la nave era sfiancante. Era come se ogni tanto un mostro della mitologia romana si svegliasse e decidesse che Largo 2 era un bocconcino imperdibile. Poche settimane prima, Eisel non avrebbe mai creduto che si potesse dormire durante l'attacco di uno dei Numina, ma in quel momento era certa che i suoi amici sotto coperta stessero russando della grossa. Ogni volta che lei aveva la possibilità di dormire, entrava praticamente in coma. «Hanno bisogno di riposare», disse. «Dovremo trovare un'altra strada da soli». «Mmm». Con la fronte aggrottata, Leo scrutò il monitor. La maglietta a brandelli e i jeans macchiati d'olio gli donavano un'aria da reduce di un incontro di wrestling con una locomotiva. Da quando Percy e Annabeth erano precipitati nel tartaro, aveva lavorato quasi senza sosta. Si comportava con più rabbia e ancora più smania del solito. Eisel era preoccupata per lui, ma in parte era anche sollevata dal cambiamento. Ogni volta che Leo sorrideva e scherzava, somigliava troppo a Sammy, il suo bisbisnonno. Nonché primo ragazzo di Hazel, nel 1942. «Accidenti», si disse la figlia di Plutone. «Perché la mia vita deve essere così complicata?» «Un'altra strada», borbottò Leo. «Tu ne vedi una?» Sul monitor brillava una mappa dell'Italia, con gli appennini che attraversavano lo stivale e il puntino verde del Largo 2 che lampeggiava sul versante occidentale della catena montuosa, a poche centinaia di chilometri da Roma. Il percorso avrebbe dovuto essere semplice. Dovevano arrivare in un luogo chiamato Epiro, in Grecia, e trovare un vecchio tempio chiamato Casa di Ade, o di Plutone, volendo usare il nome romano, o anche del padre assente peggiore del mondo, come preferiva Hazel. Per raggiungere l'Epiro non dovevano fare altro che puntare dritti verso est, superando gli appennini e il mare Adriatico. Ma le cose non erano andate così. Ogni volta che tentavano di attraversare la spina dorsale d'Italia, gli dèi della montagna li attaccavano. Negli ultimi due giorni avevano costeggiato gli appennini risalendo verso nord, nella speranza di trovare un passo sicuro, ma senza risultati. In Numina Montanum erano figli di Gea, la dea che Hazel detestava di più al mondo. E questo li rendeva dei nemici molto determinati. Largo 2 non era in grado di volare abbastanza alto per evitare i loro attacchi. Nonostante tutte le sue difese, non sarebbe riuscita a portarli dall'altra parte senza prima ridursi a pezzettini. «È colpa nostra!» disse Hazel. «Mia e di Nico!» «I Numina percepiscono la nostra presenza!» Lanciò un'occhiata al fratellastro. Da quando lo avevano salvato dai giganti, Nico aveva iniziato a recuperare le forze, ma era ancora magrissimo. Il suo fisico scheletrico ballava dentro i jeans e la maglietta, i capelli lunghi e neri incorniciavano due occhi infossati. La carnagione olivastra aveva assunto un pallore verdognole malaticcio, simile al colore della linfa degli alberi. Secondo i calcoli umani aveva solo quattordici anni, uno soltanto più di Hazel, ma questo non significava granché. Come Hazel, Nico di Angelo era un semidio proveniente da un'altra epoca. Irradiava una sorta di energia antica, una malinconia, che nasceva dalla consapevolezza di non appartenere al mondo moderno. Hazel non lo conosceva da molto, ma capiva e condivideva la sua tristezza. I figli di Ade, o Plutone che dirsi voglia, avevano raramente una vita felice. E a giudicare da quello che Nico le aveva raccontato la sera prima, la loro sfida più grande doveva ancora arrivare e li attendeva, nella casa di Ade, una sfida che lui l'aveva implorata di non rivelare agli altri. Nico strinse forte l'elsa della propria spada di ferro dell'ostige. Gli spiriti della terra non amano i figli degli inferi, è vero? Gli stiamo sullo stomaco, letteralmente. Ma credo che i Numina avvertirebbero comunque la nostra presenza. Abbiamo l'Atena Partenos a bordo, praticamente un faro magico. Hazel rabbrividì, pensando all'enorme statua che occupava quasi tutta la stiva. Recuperarla da quella caverna sotto la città di Roma era costato loro un prezzo altissimo. Solo che ora non avevano idea di come servirsene. Per il momento, l'unica cosa che sembrava in grado di fare era segnalare la loro presenza a un numero ancora maggiore di mostri. Leo fece scorrere il dito lungo la mappa dell'Italia. Allora, attraversare le montagne è fuori discussione. Il problema è che sono parecchio lunghe, sia verso nord, sia verso sud. «Potremmo passare via mare», suggerì Hazel, costeggiando la punta meridionale dell'Italia. «Ci vuole troppo», commentò Nico. «E poi non abbiamo...» gli si incrinò la voce. «Lo sai, il nostro esperto marino, Percy». Il nome rimase sospeso nell'aria, come una tempesta imminente. Percy Jackson, figlio di Poseidone. Probabilmente il semidio che Hazel ammirava di più in assoluto. Le aveva salvato la vita molte volte durante la missione in Alaska, ma quando lui aveva avuto bisogno di lei, a Roma, Hazel lo aveva deluso. Era rimasta a guardare, impotente, mentre Percy e Annabeth precipitavano nel baratro. Hazel trasse un respiro profondo. Percy e Annabeth erano ancora vivi, in cuor suo ne era certa. Poteva ancora aiutarli se fosse riuscita ad arrivare alla casa di Ade, se fosse sopravvissuta alla sfida da cui Nico l'aveva messa in guardia. «Che ne dite di continuare verso nord?» chiese. «Deve esserci un passo da qualche parte, un'interruzione nella catena montuosa». Leo armeggiò con la bronza a sfera di Archimede che aveva installato sulla console, il suo giocattolo più nuovo e pericoloso. Ogni volta che Hazel vi posava lo sguardo, le si seccava la gola. Temeva che Leo inserisse la combinazione sbagliata e li scaraventasse per sbaglio tutti fuori bordo o facesse esplodere la nave o trasformasse l'Argo 2 in un tostapane gigante. Ma furono più fortunati. Dalla superficie della sfera sbucò un piccolo proiettore e sopra la console prese vita un'immagine tridimensionale degli appennini. «Non lo so». Leo esaminò l'ologramma. «Non vedo nessun passo adatto a nord, ma l'idea mi piace di più che tornare verso sud. Ho chiuso con Roma». Nessuno trova nulla da ribattere. Roma non era stata una bella esperienza. «Qualunque cosa decidiamo di fare dobbiamo sbrigarci», intervenne Nico. «Ogni giorno che Annabeth e Persi trascorrono nel Tartaro». Non ci fu bisogno che terminasse. Dovevano sperare che i loro amici riuscissero a sopravvivere abbastanza a lungo da trovare le porte della morte. Poi, sempre che Largodue fosse riuscita ad arrivare alla casa di Ade, forse loro avrebbero potuto aprire le porte dall'altro lato, salvare Persi e Annabeth e sigillare l'ingresso, impedendo una volta per tutte alle forze di Gea di continuare a reincarnarsi nel mondo mortale. Sì, niente poteva andare storto in quel piano. Nico scrutò con il volto corrucciato le campagne italiane che scorrivano sotto di loro. Forse dovremmo proprio svegliare gli altri. Questa decisione riguarda tutti. No, replicò Hazel, possiamo trovare una soluzione. Non avrebbe saputo spiegare perché ne fosse così convinta, ma da quando avevano lasciato Roma, l'equipaggio aveva iniziato a perdere coesione. Avevano appena cominciato a lavorare come una squadra che, bam! I due membri più importanti erano precipitati nel Tartaro. Persi era la spina dorsale del gruppo, aveva trasmesso loro la sicurezza necessaria per attraversare l'Atlantico e il Mediterraneo. Quanto ad Annabeth, di fatto era stata capo della missione. Aveva recuperato l'Atena Parthenos tutta da sola. Era la più intelligente dei sette, quella che aveva sempre le risposte. Se avessero svegliato il resto dell'equipaggio ogni volta che c'era un problema, avrebbero ricominciato a discutere, a sentirsi sempre più disperati, si disse Hazel. Invece voleva che Persi e Annabeth fossero orgogliosi di lei. Doveva prendere l'iniziativa. Non poteva credere che il suo unico ruolo in quell'impresa fosse quello da cui Nicola aveva messa in guardia. Rimuovere l'ostacolo che li aspettava nella casa di Ade. Scacciò quel pensiero. Dobbiamo pensare in modo creativo, disse, Deve esserci un'altra strada per attraversare queste montagne. Oppure un modo per nasconderci da inumina. Nico sospirò. Se fossi stato da solo avrei potuto viaggiare nelle tenebre. Ma non funzionerà per un'intera nave. E a dire il vero, non so nemmeno se ho più la forza di trasportare me stesso. Potrei escogitare una sorta di camuffamento, propose Leo. Per esempio, uno schermo di fumo che ci nasconda fra le nuvole. Ma neppure lui sembrava molto entusiasta di quell'idea. Hazel scrutò il paesaggio rurale che scorreva sotto la nave e pensò a quello che c'era ancora più sotto, il regno di suo padre, il signore degli inferi. Aveva incontrato Plutone solo una volta e all'epoca non si era neanche resa conto della sua identità. Di certo non si era mai aspettata aiuti da lui, né durante la propria prima vita, né in tutto il tempo trascorso come spirito negli inferi e nemmeno da quando Nico l'aveva riportata nel mondo dei vivi. Il servitore di suo padre, Thanatos, il dio della morte, aveva suggerito che Plutone, ignorandola, in realtà le stesse facendo un favore. Dopotutto, non avrebbe dovuto essere viva. Se Plutone si fosse accorto di lei, forse avrebbe dovuto ricondurla nella terra dei morti. Ciò significava che fare appello a Plutone sarebbe stata una pessima idea. Però... Ti prego, papà, si ritrovò a supplicare. Devo trovare una strada per arrivare al tuo tempio in Grecia, la casa di Ade. Se sei laggiù, mostrami che cosa devo fare. Ai margini dell'orizzonte, un guizzo di movimento attirò lo sguardo della ragazza. Qualcosa di piccolo e beige che correva sui campi a una velocità impossibile, lasciandosi alle spalle una scia di vapore come un aeroplano. Hazel non riusciva a crederci. Non osava quasi sperarlo, ma doveva per forza essere... Arion! Cosa? domandò Nico. Leo liberò un grido di gioia quando vide avvicinarsi la nuvola di polvere. È il suo cavallo, bello! Questa parte della storia te la sei persa. Non lo vedevamo dal Kansas. Hazel rise, per la prima volta da giorni. Era così bello rivedere il suo vecchio amico. A circa un chilometro di distanza, a nord, la macchiorina beige scavalcò una collina e si fermò sulla cima. Da lontano non si distingueva bene, ma quando il cavallo si impennò in i tri, il suono raggiunse anche l'argo 2. Hazel non aveva dubbi. Era Arion. Dobbiamo andare da lui. È qui per aiutarci. Ok. Leo si grattò la testa. Ma avevamo deciso di non atterrare più, ricordi? Per quella faccenda di Gea che vuole distruggerci. Allora avviciniamoci e poi userò la scala. Il cuore di Hazel martellava forte. Credo che Arion voglia dirmi qualcosa. Grazie a tutti.